Ciao a tutti, come scoprire le scappatelle del tuo partner tramite Whatsapp? Allora, è evidente che se il tuo partner ha una relazione, messaggerà su Whatsapp. È evidente anche che queste conversazioni non verranno rese lì pubbliche, ma verranno archiviate. Perché naturalmente non vuole che se tu gli prendi il telefono e guardi su Whatsapp, cosa che peraltro farai sicuramente, resti traccia. Però traccia resta. Allora, cosa devi fare? Devi ovviamente avere il suo telefono in mano, poi andare su impostazioni, che è la solita rotellina, quella lì di impostazioni. Qua è indifferente se c'è il sistema operativo iOS o se c'è il sistema operativo Android. Dopodiché vai su impostazioni, chat, cronologia chat e infine clicca su estrai tutte le chat dall'archivio e magicamente, puff, tutte le chat appariranno e potrai scoprire tutti gli alterini di questo mondo. È evidente che prima devi farti una domanda. Se scoprirò un tradimento, cosa molto molto probabile, che faccio dopo? Perché una volta che tu hai accertato un tradimento, devi prendere una decisione. Cioè, tu non puoi dire sto zitto, sto zitta, però è dura. Devi quindi programmarti prima, qualora ci fosse la probabilità non così remota di trovare, di scoprire degli alterini, decidere cosa fare, insomma. Devi deciderlo prima e pensare bene se vuoi accertare o non vuoi accertare questo tradimento. Perché ricorda che c'è una massima molto importante che dice che chi cerca trova. E in questi casi, se cerchi, sicuramente qualcosa troverai. Bene, lascia i tuoi commenti qua sotto e iscriviti al canale. Ciao!